Benvenuti a lunedì 28 agosto. I giornali di oggi sono ridotti rispetto come sapete a quelli durante la settimana perché lunedì alcuni giornali non escono, tra cui la verità libero e fatto in media un po' preconfezionata, lo è anche il sole 24 ore, ma i temi di giornata sono quelli della settimana scorsa. Intanto sullo sgombero, oggi è molto divertente, ve lo dico subito, leggere il giornale perché c'è un po' di cose sfiziose che vale la pena leggere. Sugli sgomberi è molto interessante il pezzo di Anna Maria Greco, giornalista che io conosco molto seria, che conosce bene i magistrati e le secrete cose della magistratura italiana. Secondo Anna Maria Greco, che evidentemente ha le sue buone fonti e che le ha lette perché sono tra virgolette, magistratura democratica, che è la componente di maggioranza dei magistrati italiani, la componente di sinistra, quella che negli anni 70 diceva che bisognava fare la rivoluzione anche per via giudiziaria, Bene, magistratura democratica dice che bisogna far sì che prevalgano i diritti sociali e umani su quelli di proprietà. Questo è riferito rispetto agli sgomberi, agli abusi edilizi. Insomma, questo è il primo effetto di tutto il cancan che è stato fatto dopo lo sgombero, una volta ogni tanto si fa uno sgombero in Italia che è avvenuto alla stazione Termini. Io mi chiedo, chi mai avrà coraggio di fare uno sgombero oggi con la polizia, con i carabinieri, con le forze dell'ordine, se dopo uno sgombero in cui non ci sono feriti e in cui si cerca di ripristinare la legalità avviene tutto sto casino? I magistrati che dicono che bisogna prevalere coi diritti sociali, il ministro degli interni che dice che non si dovrà mai più fare una cosa di questo tipo, nuove direttive, i giornali che parlano di scandoloso comportamento della polizia. Poi si viene a scoprire che la frase completa del poliziotto sospettare le braccia era completamente diversa, cioè era in un contesto diverso rispetto a quello che noi abbiamo letto in soltanto una piccola frase sui giornali, come avviene sempre sulle intercettazioni. Allora mi chiedo, chi mai si prenderà la briga di sgomberare oggi una casa, un palazzo nel centro di una città italiana? Chi mai si opporrà a una cosa di questo tipo? Nessuno, tanto i proprietari di casa sono dei minusabers, sono dei prevaricatori, insomma i proprietari di casa fanno schifo in ogni caso, invece se vengono occupati da altri va benissimo. Oggi su questo sgombero Stella, ad esempio, di che cosa si occupa nei giornali Corriere della Sera? Stella ci racconta come il fascista, leghista Pagliarini, che poi è stato anche inquisito perché aveva imbertato un po' di soldi, era a favore dell'Eritrea e del dittatore Eritrea. Un po' per dire, ragazzi, attenzione che la destra, quando era a favore degli Eritrei, diceva che non c'erano i regimi lì, un po' c'è questo sapore fascista, insomma bisogna tutelarli. La Repubblica oggi invece ci racconta come la maggior parte delle persone che riceverebbero lo iussoli sono cattoliche, cristiane, perché le comunità che oggi ci sono in Italia sono soprattutto quelle dei rumeni, dei filippini e anche dei marocchini, quindi ci sarebbe il 45% dei cattolici e il 38% dei musulmani. Non capendo che il tema è esattamente un altro, è quello che ho esposto ieri in una bellissima intervista sul giornale di una ragazza musulmana che è diventata italiana e che ha detto non vedo quale sia il problema, posso diventare italiana vivendo in Italia ed essendo nata in Italia, ma la cittadinanza la bisogna guadagnare. Insomma è una cosa che mi sembra banale quasi da dire, ma forse bisognerebbe dirlo a tutti quanti i nostri giornalisti e opinionisti che invece pensano che quello, come tanti altri diritti, può essere regalato senza alcun dovere. Oggi c'è l'incontro a Parigi sul vertice della gestione dei flussi migratori e io oltretutto dico una cosa, perché il vertice su flussi migratori si fa a Parigi? Visto che riguarda, e ci hanno rotto le balle, riguarda soltanto l'Italia, la Grecia e la Spagna, perché non lo facciamo ad Atene? Perché non lo facciamo a Roma? Perché non lo facciamo, se vogliamo, a Barcellona, dove c'è tanta accoglienza secondo la sindaca di Barcellona che si deve perseguire? Insomma, non voglio dargli un orientamento politico, ma perché a Parigi? Perché Parigi deve avere il pallino in mano e perché Macron, che è sceso nei sondaggi al 40% secondo quello che vede i giornali, si tiene in mano questa leva che tanto gli interessa e noi stiamo lì poi alla fine, in realtà anche abilmente a trattare sotto banco i sindaci libici. Insomma, è una domanda che mi pongo sul peso della politica estera italiana, cioè la Mogherini, l'inutile Mogherini, c'è una persona inutile a questo mondo? La Mogherini. La persona più inutile al mondo è la Mogherini. Un'altra delle grandi fenomenali scelte fatte da Renzi, che sulle persone è stato molto bravo a far fuori i giornalisti che non gli stavano simpatici, molto meno bravo a scegliere le persone che gli stavano simpatiche. La Mogherini, ministro degli esteri, è poi diventata responsabile degli affari esteri dell'Europa. Grazie Mogherini, ci ha dato una mano in un momento importante come questo. Vabbè, insomma, in questo casino totale, in cui la Grecia è nel caos, l'Italia è nel caos, la Spagna sta per diventarlo, noi facciamo il vertice a Parigi, ufficiato da Macron. Meglio di nulla. Un'altra cosa che mi interessava oggi, che mi è molto piaciuta oggi, è il fondo di Alessandro Sallusti sul giornale. Tra Mogherini e Boldrini, Renata, ci sono due differenze. La Boldrini, io non ne condivido nulla di quello che dice, ne ho parlato molto spesso con voi, però almeno ha delle posizioni che io non condivido e trovo pericolosissime, ma ha delle posizioni. La Mogherini è semplicemente non pervenuta. L'unica cosa che ho visto fare da Mogherini è una foto col velo nel Parlamento iraniano fotografata dai progressisti iraniani che ha creato uno scandalo in Iran, non da noi, in Iran l'ha creato perché si facevano le foto con la donna occidentale. Ma, dicevamo, il fondo di Sallusti che a me oggi è molto piaciuto riguarda lo stupro a Rimini. Io non ce l'avevo ragionato perché le cose di cronaca, come sapete, non è che le seguiamo moltissimo, ma va la pena di seguirle. Una donna è stata brutalmente stuprata da quattro persone, da un branco. Non c'è nulla di peggio che lo stupro di un branco. Oggi alcuni ricordano vecchie storie italiane che sono avvenute, ma è forse la cosa più disgustosa che ci può essere. Oltre a violentare quella donna, è stato violentato un trans, che non aveva nessuna colpa se non quella di stare nella sua casa, sono venuti questi quattro e l'hanno violentato, ed è stato menato, malmenato il marito della donna violentata, gli è stato rotto il naso, sono due polacchi che abbiamo sempre identificato come due turisti polacchi. Allora mi chiedo, perché non abbiamo detto sui giornali che i quattro indagati sono quattro nordafricani, non indagati, scusatemi, i quattro ricercati sono quattro magrebini nordafricani, secondo la polizia? Cioè abbiamo detto che sono polacchi i violentati, creando loro un problema nel problema, perché la donna polacca ha paura, essendo una studentessa lavoratrice, di ritornare a casa sua e che venga identificata come la violentata. Mentre abbiamo avuto la cura di non dire che erano quattro ricercati nordafricani magrebini. È una cosa che io la trovo allucinante, forse Sallustri si è dimenticato di notare quest'ultimo particolare, che abbiamo detto che sono polacchi, ma non abbiamo detto che sono magrebini nordafricani i ricercati. Poi si riveleranno diversi dai nordafricani, ma è la stessa incertezza che abbiamo su tutte le indagini, ovviamente, oppure sulle accuse di cui noi mettiamo e pubblichiamo tutti quanti i verbali sui giornali, poi dopo possono essere prosciolti. Bene, perché tutta questa attenzione si chiede a non urtare la suscibilità dei lettori, si chiede a Sallustri? Perché questo razzismo al contrario? Per cui se sono nordafricani o magrebini e fanno una violenza sessuale tremenda, senza nessuna, non dico che i magrebini violentino tutti gli italiani, ma perché non diciamo che sono nordafricani? Per quale motivo? Quale motivo? Se lo chiede a Sallustri in questo suo pezzo. Ultima notizia della giornata riguarda la prossima legge finanziaria che da settembre in poi faremo e il governo farà. A me diverte da morire, perché da una parte si parla di questi incentivi ai giovani, ve lo racconto subito, è un modo per dare dei soldi decontribuendo i contributi sociali ai giovani occupati e per cercare di entrare e pescare voti nel Movimento 5 Stelle, che è per lo più fatto da giovani arrabbiati e quindi il governo pensa che se facciamo una manovra sui giovani forse ci prendiamo qualche consenso. Immagino, perché la manovra è fatta talmente male, almeno come leggiamo oggi sui giornali, soprattutto sul Corriere della Sera, che non ha senso. Dall'altra parte leggo Repubblica e Repubblica dice che ci sarà il bonus per i pensionati poveri. Insomma, diciamo la verità, faranno una finanziaria che aiuterà come al solito tutti, ma non aiuterà il Paese, che è quello che serve. Non sono i bonus, non sono gli incentivi a particolari categorie che creano il lavoro, purtroppo. Se no sarebbe facile, faremo incentivi e avremo risolto il problema. Non è così, perché quando arrivano gli incentivi, gli incentivi qualcuno li paga. E chi è che li paga? Lavoratori e dipendenti che quindi avranno i loro stipendi e i loro lavori, ovviamente più compromessi o il debito pubblico che sarà il debito che pagheranno i nostri figli. Non escono i soldi degli incentivi dalle piante. Ecco, è un incentivo, un miliardo. Tiè, lo diamo ai giovani, così troviamo il lavoro ai giovani. Questa è la mentalità della minchia che hanno i nostri politici, che come direbbe il Sunday Surveyor Wall Street Journal, che vi consiglio domenica, è uscito un pezzo bellissimo su Wall Street Journal, in cui dice in realtà gli economisti le hanno sbagliate tutte, è vero, non hanno previsto il 2007 e la crisi economica, ma da Adamo Smith a David Riccardo fino agli ultimi economisti una cosa ci hanno insegnato, che le sbagliano sicuramente, ma almeno loro ci provano a cercare con i numeri una verità, una realtà, una cura. Insomma, è come quel dottore che cerca di curare una malattia incurabile, non può togliere la malattia incurabile, ma cerca di curarla. Ecco, così gli economisti cercano di curarla. Le politici non cercano di curarla, cercano di trovare qua sopra dagli alberi gli incentivi per aiutare i giovani disoccupati. Marro oggi, ad esempio, su Corriere della Sera, con i numeri da economista, non da più che da giornalista che si occupa di economia, ci spiega come in realtà i giovani che hanno maggiore disoccupazione, maggiore bisogno di lavorare, sono quelli tra i 25 e i 34 anni, che sono esattamente quelli che non sarebbero nella manovra del governo, perché la manovra del governo, ricalcando i numeri della Unione Europea, fa incentivi tra i 15 e i 25, cioè la categoria di persone non solo più ristretta, ma che essendo in gran parte studentessa, non lavora anche per questo. Insomma, una minchiata nelle minchiate. Ce ne sarà di parlare a lungo quest'autunno della manovra del governo e lo faremo anche su Matrix. Ciao! Ultima cosa, è vero, qua mi parlate di Saviano, mi sono dimenticato, l'avevo messo, per chi ha voglia sul giornale, molto bello il pezzo di Bracalini, in cui mette le 10 fake news di Saviano, ad esempio, Saviano, dite stupidaggini che gli immigrati prendono 35 euro. Non è una stupidaggine, prendono 35 euro, cioè costano 35 euro, di cui una parte la prendono, anzi è più di 35, dimostra Bracalini. Dite una cavolata che gli immigrati sono un'emergenza e fa vedere con i numeri come in realtà sia un'emergenza. Quindi se avete voglia, leggetevi Bracalini con le 10 fake news di Saviano che sarebbero fake news per Saviano, ma sono fake news quelle stesse di Saviano. Ciao!